Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come giocare a Fortnite su un iPad sbloccato, quindi con jailbreak. Normalmente non è possibile, infatti se lanciate Fortnite vi butta fuori la partita. Come fare? Allora, la prima cosa è quella di avviare Cydia, quindi io parto con la premessa che avete un dispositivo sbloccato, e scaricare questo pacchetto Kern Bypass, che trovate nel repository di Acusio, quindi dovete aggiungere acusio.github.io, la prima praticamente. In questo repository trovate Kern Bypass, quindi lo installate. Ora, se andate nelle impostazioni, trovate una nuova voce, cioè Kern Bypass, e da Kern Bypass andate su Enable Application e trovate Fortnite. Da Fortnite tappate e, come vedete, diventa verde, che è attivo. Ma non basta, ovviamente, c'è un'altra procedura da fare. Allora, questa procedura va fatta una sola volta. Anche se riavviate l'iPad, perdete il jailbreak e rifate il jailbreak, questa procedura non va più rifatta. Invece quella che vi mostrò adesso sì. Quindi aprite il terminale, digitate su, poi digitate Alpine come password e digitate ovviamente Return. A questo punto digitate Change, Root, FS, Spazio e Commerciale, invio, e Disown, Spazio, il simbolo della percentuale, 1, invio. Ora potete tranquillamente giocare a Fortnite su iPad con jailbreak senza problemi.